Ciao a tutti, oggi prepareremo gli involtini di zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono zucchine tagliate a fette, sale, pepe, pangrattato, prosciutto cotto, scamorza, olio evo e acqua. Andiamo via alla ricetta. Mettere nelle zucchine il sale, il pepe e l'olio. Abbiamo ripetuto l'operazione anche nel Varoma. Adesso mettere nel boccale l'acqua, chiudere con il coperchio, posizionare il Varoma, chiudere con il coperchio e cuocere per 22 minuti. Temperatura Varoma, velocità 1. Lasciare raffreddare. Una volta che le zucchine si sono raffreddate, panarle. mettere un po' di prosciutto, formaggio ed arrotolare. fermare con una stuzzicadenti e posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti circa. Gli involtini sono cotti, impiattare e servire. Gli involtini di zucchine. Grazie e alla prossima ricetta. Gli involtini di zucchine. Grazie a tutti. Grazie a tutti.